In the previous episode of sono una ragazza e c'ho il mestru State pranzando brutti stranzi Voi non potete cucinare? Cucino io con le mie dieci braccia Credo di avere più manualità di voi Eh manualità l'avete capita? In this episode of sono una ragazza e c'ho il mestru Buongiorno! Porca troia che botta Comunque questo video ragazzi lo sto facendo con Il mio amico Pablo che mi è spuntato sotto l'occhio Ciao Pablo saluta Pablo è contento di vedervi Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Sono FabiJ e oggi siamo tornati su questo dolcissimo gioco chiamato Yand Chiamato Yandere Simulator Allora hanno aggiunto perché ogni tanto questo gioco lo aggiornano E hanno aggiunto un sacco di cacatelle tipo mission mode Che non so cosa sia E la madonna c'è un setup migliore del mio Random mission, design mission, load mission, find mission Eh random mission Kill Shin, ah ci sono proprio le missioni che devi ammazzare le persone Ma che figata Ah proprio c'è cinematica No vabbè ma che figata l'hanno aggiornato di brutto Io non mi fai neanche scegliere le mutande come in tutti gli altri Yandere Vabbè eccolo eccolo è questo No è questo davanti Chi cazzo è? È questo, è questo, è questo qua Ciao Shinjeki Quindi è questo coi capelli un po' Mica mi sembra di giocare indovina chi Ma perché siete tutti qua? Ci sono 800 armadietti perché dovete accalcarvi tutti nello stesso? Cosa tocchi tu? Tutti maniaci di sta scuola Fottutamente sta andando Perché quelli con i capelli blu stanno andando da una parte sola Quelli con i capelli blu discriminano gli altri È stranissima sta roba Ah sono nella stanza del rituale Quindi sei un rituale, sei un figlio di satana Quindi è anche facile trovare il modo di ucciderlo Però non posso Ma io devo No 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 tranquillo tranquillo Guarda cosa ci sto facendo con questo coltello Ce l'avete voi? Come se lo butto per terra L'ho buttato, l'ho buttato perfetto Bellissimo Nella stanza del rituale c'è un coltello Lo prendo Cosa ci fai con quel coltello? Era lì cazzo Devo capire un attimo Stai leggendo Come squartare la mia famiglia Ah mi piace questa cosa Vedi che ci sono i pezzi di arti sul libro Perché se premo il tasto T Mi compare una scia che mi dice di andare verso di qua Mi fa entrare qua dentro E perché mai? Ah perché dovevo andare in class È che non lo sapevo io Allora per uccidere una persona mi serve Psica Educazione fisica Bene Ah è l'una di pomeriggio Perfetto Lunch time Dov'è Shinji cieco? Allora ragazzi C'era un A parte mettersi il tostapane in testa C'era un modo Per Mandare veloce il tempo Frate Oh eccolo eccolo Dove eri andato? No minchia Si era allontanato Era il momento perfetto No no non ti sei a dire di nuovo Basta leggere i libri Basta l'educazione Best time Fino alle 2 Andiamo a comando Molto bello Divertente Si ma Hai rotto le palle Basta seguirlo di soppiato ragazzi Intanto non dovrebbe accorgersi di me In teoria Intanto che cazzo stanno facendo Quelli Stanno ingroppando a vicenda Ma cos'è star un'orgia? Minchia che due palle Oh No no Fermo che poi non lo vedi più Zia Ti arriva uno schiaffo E ti faccio volare Tutti i capelli Ti faccio volare Vabbè Comunque non trovavo il tizio Quindi sono tornato qua Però il problema è che A me serve ucciderlo Quindi non è che me ne frega Di tornare in classe Datemi il suo numero di telefono Che gli chiedo dov'è Io non sarei mai in grado Di uccidere una persona Non sono capace di stalkerare Oh eccolo stronzo Dove minchia eri Maledetto deficiente Eh Beh vedo che comunque La vita ti sorride Vedi Dov'assassinato sulle scale Datemi un'arma adesso Quindi lui scende di qua E poi vai al club Se riesco ad andare al club Prima io A prendere il coltello E poi salire di nuovo A ucciderlo Datemi un coltello Prendilo Eccolo è qua il coltello Prendilo 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 Veloce Pam Non mi ha visto nessuno A parte te Quindi devo uccidere anche te Suka Eh Bene Bene Prendi il corpo Veloce Veloce Cazzo Chi mi ha visto Chi mi ha visto Cioè mi fai capire Come fa a essere così forte Una tipa Che oltre ad uccidere una persona La prende anche in braccio E oltre a prenderla in braccio È bellissimo Perché tiene anche il frappe in bocca Allora Fammi Oh perfetto Neanche bisogna di aprire le porte Bello così Nascondilo sotto il palco Tanto penseranno che sia di scena Fantastico Manca Dispose weapon Dispose clothing E move up blood Ok So dove andare a pulirmi Veloce 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 zio Veloce zio Manca 46 45 secondi Era qua Porca Eva Magari era qua Nuda 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 Brava zia A posto Non c'ho più i vestiti Sono pulito io Ah cazzo Non proprio pulito Pulisciti Ma dai zio C'hai la doccia Non si pulisce È stupida Dai raga Non ci credo Mission failed La pulizia arriva E vabbè ma non si pulisce Sono nella vasca da bagno Nuova missione ragazzi Se mi concentro Ce la posso fare Non vi preoccupate Musume ronshaku Madonna Ma te è brutta Però almeno la riconosco Quindi accetto Allora facciamo così Per stavolta Andiamo a prima A prendere l'arma del delitto Subito La vado a posizionare I piani di sopra Quando siamo nelle scale L'ammazzo Eccola L'ammazzo da baseball L'ammazzo lo so Lo so io Me lo sento Eccola lì la troia Eccola Non resta che vedere Dove minchia se ne va Quindi aspettiamo Pass time Che cazzo sta facendo Quella è tutta scema Ragazzi che state guardando Questo video Anche voi fate così Con le amiche Perché se fate così Ci sono dei problemi seri Ah la gente Non mi può vedere Visibilmente armata Vabbè Minchia Un'ammazza da baseball Potrei fare qualsiasi cosa Un'ammazza da baseball Potrei anche farci la pizza Quella ammazza da baseball Mattarello tipo Se io vado in classe Uccido tutti quelli Che stanno nella sua classe Può funzionare E' là Eccola L'ho presa L'ho presa Ragazzi sta arrivando Sta arrivando Basta guardare dove va Basta guardare solo dove va Ammazzala adesso Perfetto vai Pick up Ce la posso fare Non ci credo Non c'è neanche sangue C'è fantastico L'ho ammazzata così Minchia regà Alto professionismo Di quello Quella madonna Di quello Madonna Di quella Madonna Bruttana Troia Bastarda Bruttana Bastarda Ammazzala famiglia Vabbè Replay Fighissimo Nel senso posso Posso riammazzarla Ok Replay Pensavo mi facesse Rivedere tutto Invece no Replay che ci puoi rigiocare Va bene Posso fare Perché l'altra volta Non c'erano Sti chizi E adesso c'erano Decido loro Quando spuntare Che cazzo è Finchè non finiscono Me ne vado Non frega niente Ormai sono Non fissato Allora Rifacciamo tutto come prima Per rifare tutto come prima Devo andare qua Lasciare l'arma qui Andare sopra Alla mia classe E aspettarla qua Per forza Ok dai Ce la posso fare Dai Sono in anticipo eh Maledetta stronza Che mi devi Sembrano bere palle Che non ci manca solo Che mi rimproveria di nuovo Luna Ok perfetto Allora siamo arrivati a Luna Ti devi togliere Adesso appena la vedo passare Mollo il telefono subito Prendo la mazza La uccido E poi sto attento A portarla Perché Buongiorno Porca troia Che botta Ok Va bene anche così Il problema è che la mazza Adesso è sporca di sangue Però vabbè Che sleppa in faccia Fortissimo Cazzo ti ha fatto Sta cristiana Metto qua Intanto qua non c'entra mai nessuno Prendi la mazza Veloce Mettila Qua Anche la mazza Ora sono sporco di sangue Cosa che prima non lo ero Devo andare a cambiare i vestiti Lavarmi completamente Perché sono sporca di sangue E poi tornare lì E incenerirla Bene Adesso ce la posso fare Come ci si lava in sto posto È un bagno Maledizione Lavati Ma se butto i vestiti Nell'acqua Si lavano Non si lavano Posso farmi un bagno Per cortesia Per favore Serve a questo il bagno C'ero riuscito una volta Ah eccolo Minchia una vita Non andavano bene Solo questo andava bene Vabbè E i vestiti Mi dovrò mettere qualcosa Non posso mica uscire in nudo Mi cambio i vestiti No 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 Così no però Gym unit Oh Intanto sono vestita la palestra Va bene Sono un po' Provocante Però vabbè Allora butto questi Nell'inceneritore Prima Poi butto la tizia Direttamente Vabbè La tippa è qua Chiudi la porta Però magari Che ne dici Allora ci sono i tizi di prima Teste di minchia Vedi non c'è nessuno Porca Eva Solo quando c'ho la tippa in mano Dovamo cagare le palle Cenerisco Incenerisci tutto Vai Fotte sega Minchia Ha perso tutto il sangue E palle Adesso devi perdere il sangue Porca c'è Eva Vai Pure lei Via Posso buttare anche la mazza da base Tanto chi se ne frega C'è solo sto cambio Non fare cazzate Perfetto Vai E tutto dentro Brucia Eh Non ci mette neanche tanto L'unica roba che manca È pulire per terra Perché se è sporco di sangue Potrebbe esserci un problema Quindi datemi un mocio Posso usare questo Senza pulire Senza l'acqua Ma si Chi se ne frega Iolo Senza l'acqua Sto andando a pulire Perché sono una brava studentessa Senza l'acqua Non funzionerebbe mai Ma vabbè Ho finito Non c'ho più obiettivi Ho fatto Lo rimetto a posto Tanto non è manco sporco di sangue Bene Io direi che Vado a controllare Che sia incenerita per bene Poi in teoria Dovrei essere In teoria 47 minuti Quindi verso le 3 Meno un quarto Un quarto alle 3 Dipende dove Minchia siete Dovrebbe andare Quindi start waiting Vai Ah quanto è difficile La vita da killer Però È divertente Più o meno Eh I miei tempi I cadaveri Si bruciavano meglio Vabbè A posto Allora ho ammazzato una persona Non esiste più Finisco la mia giornata Giornata Finisco la mia giornata Normalmente E Boh Così nessuno si sospettisce Tipo la tipa Che sono arrivato in ritardo Questa è educazione Zia Ti insegno io Finito Posso andare via? Ah hanno cambiato anche l'entrata Tra l'altro Figata Vabbè Ho finito ragazzi Sono a posto Go home Sto gioco è una merda Ma Ma Mi sono divertito L'importante è questo Va bene ragazzi È stato Bellissimo E contento Di essere riuscito Io ho fatto tutto Quello che dovevo fare Affanculo Se poi Siete stronzi voi Che non funziona Siete stronzi voi Io ho fatto tutto Allora ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto E come se vi è piaciuto Se vi è piaciuto C'è un commento E un mi piace Anche la pagina di facebook E come il video A tutta la descrizione Ciao se siete iscriviti E ci vediamo Alla prossima video Bella ragazzi